Buonasera a tutti e un benvenuto al senatore del Partito Democratico Walter Tocci che ringraziamo per aver accettato l'invito dell'Ampi Provinciale della sezione di Sanso e con la sostegno anche del Comitato per il No di Parma. Il senatore Walter Tocci viene eletto consigliere comunale a Roma dal 1985 fino al 1993. Dal 1993 al 2001 coprirà la carica di vice sindaco di Roma. Nel 2001 viene eletto alla Camera dei Deputati e si occuperà di ricerca universitaria. Al lavoro parlamentare affianca un'attività di studio pubblicando libri e saggi su Roma e sulla scienza e assumendo la direzione del Centro per la Riforma dello Stato che si occupa di riforme istituzionali. Dalle elezioni del 2013 è senatore della Repubblica. Vi leggo le sue parole. Nel mio nuovo impegno al Senato della Repubblica intendo far convogliare tutte le mie competenze, in particolare mi preme mettere la mia esperienza al servizio dei giovani eletti che in gran numero provengono come me dalle primarie per la scelta dei parlamentari PD. Il senatore Walter Tocci è stato fra i più critici all'interno della maggioranza di governo rispetto all'ipotesi di riforma costituzionale. Ha promosso una lunga battaglia parlamentare fin dal 2014, sempre alla ricerca del dialogo sul merito, volta a modificare gli aspetti più deleteri della riforma. Giungendo alla fine, inascoltato, esprimeva il suo voto contrario. Senatore Walter Tocci e altri sei senatori e tre deputati hanno sottoscritto un documento pubblicato integralmente sul suo blog, sul blog del senatore, nel quale argomentano e motivano la loro decisione di votare no alla riforma costituzionale. E noi siamo qui questa sera proprio per ascoltare le sue motivazioni, in modo da chiarire maggiormente anche le nostre convinzioni, per chi è già convinto, e a fornire sempre più elementi di riflessione a coloro che non hanno ancora deciso come votare sulla riforma costituzionale. Voluto presentare e ringrazio ancora tantissimo il senatore per aver accettato il nostro invito. Grazie mille. Passo la parola al nostro presidente dell'AMPI provinciale di Parma, Aldo Montermini. Un brevissimo saluto, anzi mi scuso perché poi scapperò via molto molto presto perché domattina presto devo imbarcarmi su un pullman da Parma per andare a partecipare alla Marcia della Pace per un giassisi assieme a tante altre persone e ci tengo anche a dire assieme a un bel gruppo di studenti e quando dei giovani, degli studenti si muovono per la pace è sempre un bel segnale. Ringrazio Patrizia Mainardi e la sezione dell'AMPI di Salso Maggiore per aver organizzato questa iniziativa. Naturalmente anche io ringrazio il senatore Tocci per la sua presenza. Vorrei dire molto brevemente perché l'AMPI nella sezione di Salso Maggiore dell'AMPI ma anche l'AMPI provinciale vi ha invitato qui questa sera per parlare di riforma costituzionale. Molti si sono o hanno fatto finta di stupirsi, si sono stupiti, alcuni si sono anche arrabbiati, alcuni si sono anche indignati quando nel gennaio di quest'anno l'AMPI ha diciamo reso esplicito pubblica in maniera diciamo netta e decisa la sua posizione riguardo alla riforma costituzionale che ci viene proposto il referendum. Non è una sorpresa perché l'AMPI prende una posizione di questo genere. L'AMPI è un'associazione, la sapete tutti, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. L'AMPI è un'associazione che ha uno statuto e all'AMPI ci teniamo anche a tenere fede a quello che sta scritto nel nostro statuto. Una delle cose che sta scritta nello statuto è che l'AMPI vuole prendersi cura della Costituzione che è quella che ci hanno consegnato i partigiani con la lotta di liberazione. Prendersi cura però che non vuole dire metterla lì in un cassetto, no? Diciamo come un qualche cosa di intoccabile. Assolutamente no. Siamo perfettamente consapevoli che una Costituzione, diciamo, che è la legge fondamentale di un Paese deve anche essere in grado di seguire quella che è l'evoluzione della società in cui è stata calata. Ecco. però siamo anche altrettanto consapevoli che una Costituzione non si può, diciamo, stravolgere, no? Per motivi che sinceramente a me non sono ancora del tutto chiari, no? La posizione dell'AMPI per il no non è una posizione ideologica, assolutamente. È una posizione, come dicevo prima, che viene sicuramente dalla nostra storia, no? Ma che non nasce all'improvviso, non ci si sveglia una mattina e si dice no, non ci piace. L'AMPI ha seguito da vicino tutto l'iter di questa riforma dal 2014 a venire ad oggi. Ci sono stati anche, diciamo, appelli, interventi che il nostro Presidente ha fatto verso i parlamentari. Attenzione, guardate quello che state facendo, eccetera. La posizione dell'AMPI è molto semplice, direi anche abbastanza chiara. Noi diciamo no a questa Costituzione perché la riteniamo fatta male, prima di tutto, e in secondo luogo, proprio perché è fatta male, anche molto rischiosa per il nostro Paese. Pensiamo che con un stravolgimento di questo genere che è stato fatto della Costituzione si possa andare incontro veramente a dei danni importanti per quello che è il tessuto democratico del Paese. Vi avevo promesso di farla breve, quindi la chiudo qui. Sicuramente il senatore Tocci dirà delle cose molto meglio di me sul merito della cosa. Dico solo un'ultima cosa. L'AMPI è impegnato nella campagna referendaria, altrimenti non sareste qui questa sera. Cosa ci proponiamo noi in questa campagna? Sostanzialmente una cosa, che è quella di fare in modo che le persone, i cittadini, possono andare a votare consapevolmente. Quindi nelle iniziative che facciamo difficilmente sentirete dei comizi, ma cercheremo sempre di entrare nel merito, approfondire e fare riflettere. L'unica cosa che interessa all'AMPI è che questa riforma venga bloccata. Sicuramente non sarà come è stato paventato a volte la catastrofe, ma si tratterà di mettere un punto e poi ricominciare con magari un tantino più di consapevolezza di come è stato fatto in questo momento. Vi ringrazio e do la parola al senatore Tocci. Grazie, mi fa molto piacere trovarmi qui con voi, in questa bellissima cittadina di Salzo Maggiore, così carica di storia, mi hanno raccontato alcuni amici e vi auguro anche carica di futuro. Avevo un'agenda molto complicata, ma quando mi è arrivato l'invito dell'AMPI ho messo da parte tutti gli altri impegni, perché quando chiama l'AMPI bisogna obbedire. L'AMPI è nel cuore e nelle menti di tutti noi. Il Presidente ha detto adesso una frase bellissima, riassumendo il compito, ma direi la missione dell'AMPI, prendersi cura della Costituzione. Prendersi cura significa innanzitutto avere uno stato d'animo adatto alla cura. Credo che per parlare di Costituzione bisogna mettersi nello stato d'animo adatto. Non è come parlare di qualsiasi legge, non è un decreto legge, non è un qualcosa di ordinario. E non è soltanto neppure una carta giuridica. La Costituzione è qualcosa di più. È un'eredità vivente e allo stesso tempo è una promessa per l'avvenire. Allora, è possibile cambiare la carta? Certo che è possibile. Ma appunto ci vuole un prendersi cura. È come entrare in una cattedrale e avere l'ambizione di fare qualcosa che possa migliorare questa cattedrale. Quindi ci vuole una grande ambizione, una grande cura. Soprattutto ci vuole una grande umiltà, sapendo che noi oggi siamo dei nani che mettiamo mano a qualcosa che hanno realizzato i giganti. Ci vuole una sobrietà. Perché se dobbiamo intervenire in una cattedrale bisognerà farlo con molta cura, scegliendo magari i materiali giusti, scegliendo quelle opere di restauro, non so, quella loggetta che magari non è più utile, quell'arco da sistemare, ma senza stravolgere lo stile e soprattutto senza cambiare la funzione di questa cattedrale. Ci vuole insomma un momento di raccoglimento. Io mi immagino questo artigiano che ha questa ambizione di restaurare una cattedrale, prima di prendere in mano il martello, il pennello, si metterà in raccoglimento a guardare questo capolavoro che vuole modificare. E così noi, prima di entrare quindi nel merito degli aspetti anche tecnici di questo referendum, io vi propongo di metterci un momento in raccoglimento di fronte alla Costituzione. Metterci in raccoglimento significa prendere confidenza con questa carta, leggerla, rileggerla, insegnare a leggerla. Dovremmo fare un po' come fanno appunto i predi in Chiesa, che leggono ogni domenica un brano del Vangelo, tutti i fedeli conoscono il Vangelo, ma quella lettura suscita sempre in loro qualche considerazione, qualche suggestione. E così noi, prima di parlare della Costituzione, dovremmo leggere un articolo. Vi propongo l'articolo 36. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Vedete che bella lingua italiana, parole semplici, ma intense, profonde, che qualsiasi cittadino, non deve essere giurista, può comprendere. Questa è la carta costituzionale. Se voi provate a leggere gli articoli nuovi che sono stati inseriti, vedrete che è una lingua tutta diversa, fatta di rimandi, accommi, articoli. Sembra quasi un regolamento di condominio, piuttosto che una Costituzione. Il linguaggio, quindi, già dice molto. Ma questo articolo che ho appena letto, se ci riflettiamo un attimo, quanto è distante dalla vita concreta di milioni di italiani, soprattutto dei nostri giovani, no? Quando io lo leggo a un giovane, rimane sempre strabiliato. Un'esistenza libera e dignitosa, per sé e per la famiglia. E allora vedete che il problema è attuare la Costituzione. Attuare la Costituzione. L'articolo 36 ce lo dice. Se dovessimo attuare l'articolo 36, dovremmo riscrivere in Italia quasi tutte le leggi sul lavoro degli ultimi vent'anni, che sono tutte in contrasto con quell'articolo 36. Vedete, quindi, attuare la Costituzione non è una cosa retorica, è un impegno politico, civile. E i sostenitori del sì ci rassicurano, ci dicono, ma la prima parte non si tocca e ci mancherebbe altro. Ma non si tratta di metterla come una reliquia in una teca. È un'eredità vivente, ho detto prima. E quindi ho riletto un articolo per dire che attuare la Costituzione è qualcosa che dovrebbe impegnarci più di ogni altra cosa, dovrebbe essere al centro della nostra discussione. Io quando entrai da giovanissimo per la prima volta ho preso la tessera di partito e un anziano compagno mi diede la tessera e mi diede anche una copia della Costituzione e mi disse questo è il nostro programma politico, attuare la Costituzione. A noi ragazzi allora sessantottini ci sembrava un po' poco perché volevamo fare la rivoluzione mondiale, avevamo tanti grilli per la testa, ma io poi durante la vita ho sempre pensato a quella frase, aveva ragione lui, non si finisce mai di attuare la Costituzione. Eppure sono quasi 30 anni che noi non parliamo più di attuare la Costituzione perché parliamo soltanto di revisionare la Costituzione. Ecco quindi che il revisionare ha scalzato l'attuare, il revisionare che ha prodotto tante revisioni, non è vero quello che raccontano, è la prima volta, ma quando mai? Sono state 35 revisioni costituzionali, la maggior parte sono state sbagliate. Quindi questa continua ossessione, perché di questo si tratta, a cambiare la Costituzione, non solo non ha prodotto risultati, ma ha scalzato via il tema dell'attuazione della nostra Costituzione, di cui nessuno parla più. Voi sentite un politico, un uomo di governo oggi, che dice quello che ha detto a me, quell'anziano compagno, attuare la Costituzione è il nostro programma di governo. Ecco quindi che non dobbiamo dimenticarla, quindi l'attuazione. E come mai però, come mai questa ossessione? Guardate che se ci guardiamo intorno, non c'è nessun paese occidentale, nessun paese europeo, nessun paese civile, che è impegnato da 30 anni a cambiare la Costituzione. Ma da che cosa dipenderà? Possibile che la nostra è così tanto difettosa da meritare 30 anni di ossessione? Eppure tutte le Costituzioni sono un po' difettose, perché sono dei prodotti storici. E la virtù dei governanti sta nel compensare eventuali deficit o mancanze con la politica, con il buon governo. Gli americani hanno una Costituzione da più di due secoli, per loro è una sorta di religione civile, eppure è piena di difetti. Pensate un po', non hanno neppure un decreto legge, ma questo non gli ha impedito di governare un impero. Da noi governanti dicono che senza un decreto legge non si può governare. Lì ci hanno governato un impero. Se in quel paese un politico si alzasse la mattina e proponesse di cambiare 47 articoli della Costituzione, tutti direbbero che questo signore non si sente tanto bene, forse chiamerebbero l'ambulanza per portarlo via. Da noi, invece, è un dibattito all'ordine del giorno cambiare 47 articoli. Ma perché succede questo? Ci sarà una causa. E quando è cominciata questa storia? È cominciata negli anni Ottanta, quando è successo qualcosa, sì, di importante, cioè i vecchi partiti, che non vanno mitizzati, perché io mi ricordo anche i loro difetti, però nel bene e nel male avevano comunque guidato il paese, sia dal governo, sia dall'opposizione. ma questi partiti già negli anni Settanta non sono stati più capaci di svolgere questa funzione, negli anni Ottanta ancora di più. Però da quel punto in poi la classe politica italiana non è riuscita a sostituirli con niente. non sono stati creati nuovi partiti diversi, non più ideologici come quelli, ma altrettanto capaci di contribuire alla vita nazionale. Da trent'anni a questa parte la classe politica italiana, me compreso, io ne faccio parte, non mi sottraggo alla parte di responsabilità, la classe politica italiana in questi trent'anni è andata sempre più in giù, si è abbassato il livello, la capacità, la credibilità, il consenso popolare. mentre andava in giù la classe politica e mostrava tutto il suo affanno a governare il paese è come se avesse detto non dipende da me se i problemi non si risolvono, è colpa della Costituzione. Cioè la classe politica ha spostato la propria incapacità di governare sulla Costituzione, ha colpevolizzato la Costituzione. Questo è un grande inganno, un grande paradosso che ci ha portato appunto a tante riforme, a tante, alcune sbagliate, altre progettate. E in questo quindi voglio subito dire una cosa che ovviamente io adesso vi parlerò, farò la critica dell'attuale revisione, quella che è oggetto di referendum. Bisogna dire la verità che molte delle cose che sono scritte qui erano scritte anche nelle revisioni precedenti, proposte da altri dirigenti della sinistra italiana, e quindi è l'intero trentennio che è sbagliato perché appunto ha spostato il problema dalla responsabilità della classe politica alla colpa della Costituzione. Invece no, il problema è la classe politica, è quella che bisogna cambiare. Abbiamo bisogno di partiti veri, di politici colti, preparati, sensibili ai bisogni popolari. Finché non ci sarà questo rinnovamento della classe politica, nessuna revisione costituzionale potrà dare un nuovo progresso al Paese. Ma qui c'è stato un grande inganno, un vero e proprio inganno. È come se i politici italiani avessero detto io volevo spostare le montagne, ma non mi è stato possibile perché c'erano le procedure parlamentari, il bicameralismo. Sono state raccontate delle grandi bugie al popolo italiano per trent'anni. Si è raccontata la balla clamorosa della navetta, cioè delle leggi che fanno di qua e di là due volte. Sono il 3% delle leggi. Non è vero quello che vi raccontano. Quando voi sentite un politico che vi dice io volevo fare, ma il bicameralismo me l'ho impedito, voi dovreste rispondergli, come dicono dalle mie parti, con quel buonsenso romano, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Se vuoi governare, se hai volontà, se hai passione, puoi farlo anche con il bicameralismo. non cercare alibi, non cercare scuse, come si fa da trent'anni. Anche perché è talmente vero quello che sto dicendo, che c'è anche l'esempio opposto. Ma guardate che quando c'è la volontà politica, nonostante il bicameralismo, le leggi sono velocissime. Anzi, vi posso dire che nella mia esperienza parlamentare mi sono fatto questa teoria, questa statistica. le più veloci sono anche le più dannose.